... Malvia in Corte d'Assise a Venezia, il processo per l'omicidio di Giulia Cecchettina. Accordo tra le parti, unico a essere sentito in aula, l'imputato Filippo Turetta. Il 3 dicembre la sentenza, parti civili, solo i familiari della vittima, risarcimento calcolato in un milione di euro. In aula il padre di Giulia Gino Cecchettin, presente solo a questa udienza, dice forse valuterò di volta in volta. E ancora non voglio vendetta ma giustizia, se incontrassi Turetta non so, non ho niente da dirgli. Convalidato in mattinata l'arresto del 37enne Moldavo accusato di aver ucciso a coltellate a mestre Giacomo Gobbato e ferito un amico, veglia sul luogo della morte. Crollo del soffitto degli spogliatoi, chiuse le piscine comunali di Castelfranco. D'anni ingenti, il sindaco, cedimento imprevedibile, poteva essere una tragedia. Si sono finti operai per entrare in un cantiere di San Liberale e rubare due scavatori dal valore di 300 mila euro, arrestati dalla polizia tra individui. Appaltata la progettazione del secondo stralcio del Terraglio Est, opera da 38 milioni di euro. Al via il cantiere la prossima estate, termine dei lavori a fine 2026. Prevenzione delle alluvioni, il Veneto ha realizzato circa la metà dei bacini di laminazione previsti, ma la vera sfida è il restauro di 5 mila chilometri di Argini, il punto a Palazzo Balbi. Un murale per abbellire l'entrata della scuola, ma anche come lezione sulla cura e l'attenzione per gli altri. È quello inaugurato oggi alle elementari Ciardi di Treviso. Buonasera, eccoci in diretta con l'edizione di Treviso dei telegiornali di Antenna 3. Allora una giornata ampiamente dedicata nelle nostre dirette all'avvio del processo a carico di Filippo Turetta, accusato dell'omicidio di Giulia Cecchettin. Sarà un processo lampo, visto l'accordo arrivato tra le parti proprio oggi. Turetta si farà interrogare in aula e il 3 dicembre potrebbe già arrivare la sentenza. Alle 9.30 è iniziato il processo a carico di Filippo Turetta, reo confesso che, come annunciato, non era presente in aula, così come assenti i suoi genitori. Accanto all'avvocato, come sempre composto nel suo dolore immenso, il padre di Giulia, Gino Cecchettin. A presidere la Corte d'Assise di Venezia, formata da sei uomini e quattro donne, il giudice Stefano Manduzio. Il processo è sulle responsabilità personali, ha spiegato il procuratore di Venezia, Bruno Cherchi. Il processo deve svolgersi nelle aule giudiziarie, deve svolgersi con i diritti che anche l'imputato ha dalla nostra Costituzione, ma dal codice di procedura penale. Quindi questo è il processo. Un processo lampo che terminerà con tutta probabilità il 3 dicembre con la lettura della sentenza. Turetta sarà sentito in aula il 25 e il 28 ottobre. Filippo Turetta ovviamente, su indicazione anche del suo difensore, è consapevole che debba rendere conto di quello che ha commesso alla comunità, prima di tutto al suo giudice, alla Corte d'Assise e poi ovviamente non solo alla comunità, alla Corte d'Assise, ma anche ai prossimi congiunti, anzi per certi versi in primo luogo ai prossimi congiunti di Giulia Cecchettin e alla memoria di Giulia. Nessun test verrà sentito in aula perché è stato richiesto e condiviso da tutte le parti in causa l'intera acquisizione del fascicolo delle indagini preliminari. L'obiettivo pertanto che si è prefisso sul piano tecnico giuridico Filippo Turetta è quello di chiedere sostanzialmente un abbreviato, non contando o non potendo beneficiare della riduzione di un terzo di pena. Si riduce così il calvario processuale per la famiglia della povera Giulia, uccisa, lo ricordiamo, con numerose coltellate. Tutto sommato per il mio assistito, per Gino Cecchettin, ma evidentemente anche per tutti gli altri familiari, è comunque un bene perché ripercorrere con l'esame dei testimoni, con l'esame delle consulenze, una vicenda che è dolorosissima, non siamo in grado neanche di quantificare come, allevierà sicuramente il dolore. La celerità a fronte di un'attività di indagine completa, analitica, imponente, supportata da dati di sostegno, come la messaggistica, come i vocali, così imponente come una cattedrale gotica, per noi è stata una scelta importante, è una scelta che abbiamo condiviso. Nessuna richiesta di vendetta, ha spiegato l'avvocato Gentile, ma una pena giusta. I legali della famiglia hanno fatto poi sapere che un milione di euro è quanto stimato possa essere un risarcimento che Filippo Turetta dovrà alla famiglia di Giulia. Il collegio giudicante è escluso dalle parti civili e due comuni di Fossò e Vigonovo e le associazioni a tutela delle donne. In pratica, delle 12 parti civili rimangono il padre Gino, i fratelli Elena e Davide, la nonna e lo zio. Piena fiducia nella giustizia è quella espressa oggi da Gino Cecchettin, papà di Giulia, che ha presenziato in aula la prima udienza. Deciderà di volta in volta, ha detto, se essere presente alle prossime udienze. Il dolore è naturalmente lacerante. Io non mi auguro nessun tipo di vendetta, nessun tipo di trattamento di favore. quello che è previsto dalla legge e sono sicuro che la giuria, i giudici, sapranno giudicare con correttezza. Quello che è successo lo sappiamo tutti, rinnova il mio dolore, perché sentire costantemente quanto è successo è rinnovare il mio dolore, ma ho piena fiducia nelle istituzioni e quindi sono sicuro che la pena giusta sarà quella che la giuria deciderà di combinare. Ha aspettato la pausa a fine della mattinata, prima di parlare con la stampa, e con il garbo e la compostezza di sempre, ha espresso piena fiducia nella giustizia. Nessun giudizio, nessun desiderio di vendetta. Gino Cecchettin, il papà di Giulia, mostra ancora una volta la sua forza d'animo, nonostante il dolore lacerante che si rinnova e che gli fa mettere in forse la partecipazione alle prossime udienze del processo nei confronti dell'assassino di sua figlia. Oggi penso sia un atto dovuto e di rispetto verso la corte e i giudici, e nel proseguio vedremo, deciderò di volta in volta. Oggi non sto sicuramente bene, ma non c'è giorno che io non pensi alla mia Giulia e a tutto quello che ho perso con lei. Non nomina mai Filippo Turetta a Gino Cecchettin e non teme di incontrarlo in aula, se sarà presente. No, perché dovrei. Il danno non l'ho mai fatto. Ma secondo lei dovrebbe venire per il processo e per rispetto a lei? È sua discrezione, non entro nel merito, non sta a mai giudicare. Se potesse dire qualcosa a Filippo cosa direbbe? Non avrei niente da dire. Un processo, quello per il femminicidio di Giulia, che ha un'enorme attenzione mediatica. Gino Cecchettin ne è consapevole e rifugge ogni spettacolarizzazione, ribadendo l'impegno incrollabile contro la violenza di genere attraverso la fondazione che porta il nome della figlia. Un conto è giudicare un reato, un altro prodigarsi per far sì che questo non succeda in altro modo e questo lo farò con la fondazione e assieme a tutte le associazioni che stanno lottando contro la violenza sulle donne. In aula oggi c'era anche la nonna di Giulia, Carla Gatto, che rispetto all'assenza di Turetta ha detto avrebbe dovuto metterci la faccia, ma la mia è un'opinione, ha sottolineato ovviamente il grande dolore che la famiglia porta dentro. Sarebbe stato giusto che fosse la sua presenza, secondo me se io fossi Turetta sarei stata presente, nonostante tutto, però ognuno la pensa a modo suo. Carla Gatto è la nonna di Giulia Cecchettin, presente in aula all'apertura del processo per il femminicidio della nipote. Dovrebbe metterci la faccia, dice, riferendosi all'assenza di Filippo Turetta alla prima udienza, ma nonna Carla non commenta oltre la scelta della difesa. Noi il dolore ce l'abbiamo dentro, anche se in apparenza non lo diamo a vedere. Ed è tanto, tanto, tanto. È quasi un anno che è successo, otto mesi circa, no? Per noi è otto mesi di atroce, dolore, ce l'abbiamo là. La nostra sofferenza la mascheriamo magari, perché bisogna vivere, ma per il resto insomma c'è. Un dolore immenso, sempre composto, pacato, quella della famiglia di Giulia Cecchettin, con la nonna che ricorda con dolcezza la nipote e la sua gioia, la sua allegria. Era una ragazza speciale e forse non ci si aspetta che alle ragazze speciali accadano queste cose. Lei era molto buona, molto sensibile, molto ben disposta verso gli altri. E questo è bene, no? Questo è bene. Però il bene molte volte non paga. Chiede giustizia alla famiglia di Giulia, ma su quale sia la pena davvero giusta per il suo assassino, nonna Carla non si esprime. Io non sono un giudice e non intendo giudicare nessuno. Un messaggio a Filippo Turetta, se potesse dirgli qualcosa, nonna Carla cosa gli dire? Non me la sento. Penso se ha un po' di coscienza parlerà la sua coscienza. Finiamo alla cronaca nella marca delle ultime ore, con il crollo del soffitto degli spogliatoi della piscina di Castelfranco Veneto che sono state chiuse, danni ingenti, con il sindaco che dice che poteva essere una tragedia. Qua vediamo praticamente se c'è umido o meno, nelle zone magari che sono più fredde, come per esempio questa zona qua. Più è umido, più potrebbe esserci un distacco. Tecnici al lavoro per esaminare lo stato di sicurezza dei soffitti. Sarebbe stato causato dal contatto costante con l'umidità il crollo del soffitto delle piscine comunali di Castelfranco. Calcinacci d'intonaco a terra nell'area delle docce dello spogliatoio femminile. Il crollo avvenuto fortunatamente di notte non ha causato feriti, ma poteva trasformarsi in tragedia dal momento che la piscina era aperta anche domenica. È uno dei drammi che coinvolgono le pubbliche amministrazioni, ricordo esserci stati degli eventi simili purtroppo in Italia che hanno creato anche dei feriti piuttosto che delle vittime. Il tema è sempre quello, c'è la possibilità, laddove ti diano le risorse, di attivare delle misure di prevenzione. Questi eventi accadono senza segnali preliminari, ricordo aver avuto un crollo in municipio. Gli eventi che si verificano, specialmente dove si sono immobili un po' datati. Costruita nel 69 la manutenzione del complesso da tempo al centro del dibattito interno al comune, attacca l'opposizione. Non ha mai speso un centesimo per la manutenzione straordinaria degli impianti sportivi. La sua giunta e la sua maggioranza hanno speso oltre 300 mila euro pagati per fare il progetto per una nuova mega piscina e il progetto, dopo essere stato pagato con i soldi dei cittadini, giace nei cassetti perché è semplicemente irrealizzabile. Quel progetto sì è ambizioso ma che farebbe sì che quest'area fosse riqualificata in impianti sportivi e non venisse cementificata magari con residenziale piuttosto che altro. Rispetto a questo impianto è da tempo che cerchiamo, rincorriamo risorse. Abbiamo un progetto che dovrebbe riqualificare tutta quest'area sportiva, compreso il palazzetto, che è un progetto ambizioso che abbiamo portato avanti, che può essere realizzato per stralci ma che ancora oggi non ha trovato alcun canale di finanziamento. Il PNRR non ha dato opportunità. Intanto l'amministrazione con una variazione di bilancio ha stanziato 50 mila euro per la manutenzione. Non abbastanza potevano essere stanziati prima, il commento dell'opposizione. Ancora difficile stimare l'entità dei danni mentre continuano i ridevi dei tecnici che nelle prossime ore stabiliranno se la struttura potrà essere riaperta in sicurezza. A fuoco in mattinata un casale sulle colline di San Pietro di Feletto in via Brandolini. Fiamme altissime, grande spavento tra i residenti. Erano le fiamme altissime, tutto un scopiettio, ho chiamato i vigili del fuoco naturalmente e mi hanno detto che erano già partiti e gli ho detto fate presto perché qua prende fuoco San Pietro. È durato quasi quattro ore l'intervento dei vigili del fuoco di Conegliano, Vittorio Veneto e Treviso sono intervenuti con quattro mezzi e quattordici uomini per spegnere l'incendio scoppiato in mattinata verso le undici tra via Brandolini e via Borgo Antiga. A prendere fuoco un casale utilizzato per il ricovero degli attrezzi dove al piano terra sono andati bruciati un trattore, un furgone e un'auto che si trovavano al riparo nella costruzione. Coinvolti dalle fiamme anche altri materiali messi a deposito nell'edificio. Fiamme che si sono alzate per quasi trenta metri. Mi ha fatto paura. Quante fiamme altre? Tantissime, moltissime. Perché non c'era fumo, c'erano solo fiamme. Quello là non era un'abitazione. Un'azienda. Non era un ricovero a trezzi, l'aveva detto il trattore, penso a trezzi agricoli. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco è arrivati in tempi brevissimi, verso le undici e un quarto ma nel frattempo il fuoco aveva cominciato già a propagarsi e sono assaltate anche alcune utenze elettriche perché ha ceduto il cavo di un palo della pubblica illuminazione proprio vicino al luogo dell'incendio. Enel è stata avvisata e ai residenti è stata chiesta un po' di pazienza in attesa dell'esecuzione degli interventi di ripristino. Sul luogo dell'incendio si è recato anche il sindaco di San Pietro di Feletto, Cristiano Botteon, che ha assicurato la cittadinanza sulla salubrità dell'aria, a parte naturalmente il fumo. L'aria è stata comunque a lungo impregnata e a lungo è stato il lavoro dei mezzi di soccorso di polizie e carabinieri intervenuti per gestire e deviare il traffico locale fatto di curiosi ma anche di residenti. Restano per ora ignote le cause dell'incendio che verranno analizzate quando l'area sarà di nuovo bonificata e accessibile. E sono dovuti intervenire i vigili del fuoco in mattinata in via Molinella a Povegliano in seguito a un incendio in un salone di parrucchiere che risalirebbe però le scorse notti. I titolari infatti entrando nel salone si sono accorti del fumo nero depositato in tutto il locale probabilmente a causa di una combustione interna che ha bruciato qualche materiale plastico poi estinguendosi da sola. La squadra intervenuta ha eseguito un controllo per determinare le cause del principio di incendio. Ancora cronaca, si sono finti operai per entrare in un cantiere e rubare due escavatori del valore di 300 mila euro. Tre uomini sono stati arrestati dalla polizia di Stato. Travestiti da operai entrano nel cantiere, salgono su due escavatori, tolgono i GPS e tentano di caricarli su un auto articolato. È successo nel quartiere di San Liberale a Treviso sabato pomeriggio. I tre stavano cercando di mettere a segno il colpo da ben 300 mila euro, tanto il valore dei mezzi, quando una pattuglia della polizia ha notato dei movimenti sospetti nel cantiere e ha sorpreso i malviventi nell'atto del furto. Si tratta di un sessantenne di Rosano, un 39enne di Foggia e un 36enne di Arzignano, arrestati per tentato furto aggravato in concorso. Al momento del fermo, uno di loro per sottrarsi all'arresto è salito nella propria auto e fuggito a tutta velocità per le vie della città, inseguito dalle pattuglie della polizia che sono state ripetutamente speronate. Messo alle strette ha tentato la fuga a piedi, ma a nulla è servito. I poliziotti lo hanno bloccato e fermato. I due escavatori sono stati poi restituiti alla ditta. Ed è rimasta chiusa invece oggi la sede della termoidraulica Cecconato di Arcade, che ha fatto da sfondo sabato mattina il tragico incidente in cui ha perso la vita uno dei titolari, Mirko Cecconato, 57 anni, schiacciato dal muletto che stava manovrando in quel momento per uso personale. La procura non ha disposto l'autopsia sul corpo di Cecconato, ma potrebbe essere la famiglia a chiedere di eseguire un esame approfondito per capire se davvero il proprio caro sia morto per una manovra errata o se in quegli istanti non sia stato colpito da un malore. La data dei funerali, di conseguenza, sarà fissata solo al termine di tutti gli approfondimenti del caso. Ci spostiamo a Mestre con un caso che naturalmente ha grande rilievo, è stato grande cordoglio anche nella marca trevigiana, l'uccisione del 26enne Giacomo Gobbato mentre tentava di sventare una rapina. Allora in diretta da Mestre Filippo Fois e Nicoletta Rizzeto perché per Giacomo è in corso una veglia. Sì, buonasera Alina, buonasera ai telespettatori di Antenna 3. La veglia è in corso proprio in questo momento, sta venendo ufficiata da Don Fabio che è il parroco del Sacro Cuore, una chiesa che si trova poco distante da qui. Noi ci troviamo proprio in Corso del Popolo, nel luogo in cui ha perso la vita Giacomo, proprio pochi metri più in là, dove adesso tutta l'area è stata riempita di fiori e di striscioni per ricordarlo. C'è già stata una manifestazione sabato pomeriggio per ricordare questo sfortunato giovane che è scomparso a 26 anni, oggi invece, poi era stata indetta dai centri sociali di cui lui faceva parte, oggi invece è stata indetta dalla parrocchia del Sacro Cuore. Anche oggi c'è tantissima gente qui a Mestre perché è un fatto che, come dicevi tu, ha addestato cordoglio ovunque, in Veneto, ma ha oltrepassato anche i confini della nostra regione, diventando una notizia di carattere nazionale. Giacomo era un giovane che si impegnava molto sul sociale e anche la notte in cui ha perso la vita qui in Corso del Popolo a Mestre, sabato, attorno alle 23, non si è girato dall'altra parte, come hanno detto in molti, quando ha visto una persona in difficoltà che stava subendo una rapina e corso assieme a un amico ad aiutare una ragazza e lì è stato raggiunto da una coltellata al costato che gli è risultata fatale. La persona ritenuta responsabile si trova in carcere, ma questo non può riportare Giacomo in vita naturalmente, dico delle ovvietà. Oggi in questo momento è un momento di preghiera, ma il dibattito su che cosa si debba fare a Mestre per rendere questa città più sicura, perché è una città che è un fortissimo problema di sicurezza, che si tratti di sicurezza percepita o reale, questo non sta a noi dirlo, però effettivamente c'è un problema molto grosso. Giovani come Giacomo si battevano proprio per questo, dando un piccolo contributo, attivandosi per aiutare le persone che erano meno fortunate e ha trovato la morte su questo marciapiede in cui oggi viene, anche oggi, e non sarà l'unica occasione, continua a essere ricordato da tutti i suoi concittadini. A te la linea, Alina. Grazie, grazie Filippo, grazie Nicoletta Rizzetto per questo collegamento. Allora nel servizio che segue andiamo a ripercorrere proprio gli aggiornamenti di queste ultime ore su questo drammatico caso. Nel giorno della convalida dell'arresto del cittadino moldavo di 37 anni, accusato dell'omicidio del 26enne Giacomo Gobbato e del ferimento dell'amico Sebastiano, il fratello di Giacomo, accompagnato da due amici, ha deposto un mazzo di fiori in corso del popolo a Mestre, dove il giovane è stato ucciso. Il moldavo, difeso dall'avvocato Tiziana Nordio, è stato posto in custodia cautelare in carcere, una decisione del giudice che il difensore non ha voluto commentare. Nel frattempo il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, ha annunciato il lutto cittadino nel giorno delle esequie di Giacomo Gobbato, con le bandiere e il gonfallone di Venezia esposti a mezz'asta in tutti gli edifici comunali. La data del funerale non è ancora stata fissata. Dopo il momento di raccoglimento di amici e compagni del centro sociale rivolta in corso del popolo, sarà la volta del raccoglimento dei fedeli per una preghiera nello stesso luogo dove Giacomo è stato ucciso. I residenti della parrocchia del Sacro Cuore si troveranno per un momento di cordoglio. C'è, è vivo, è noto insieme a noi, le nostre idee non moriranno mai. Durante il sit-in, gli amici di Giacomo, assieme ai genitori, hanno ricordato l'energia e l'impegno del 26enne, esprimendo dolore e rabbia per la sua morte. Il padre di Giacomo, Luca Gobbato, ha descritto suo figlio come un ragazzo amato da tutti, generoso, che si prendeva cura degli altri con spirito di abnegazione, appassionato di musica e tatuaggi. Una tragedia annunciata per molti residenti della zona, che segnalano da tempo problemi di criminalità tra via Piave e corso del popolo. C'è troppa delinquenza, non c'è controlli, una roba spaventosa. Alla sera, poi, a una certa ora bisogna stare a casa. Giacomo è stato tragicamente accoltellato mentre cercava di difendere una donna dall'aggressione di un senza tetto di origine moldava, che tentava di rubarle la borsa. Il 26enne, insieme agli amici del centro sociale, aveva sempre cercato di aiutare gli emarginati della città, offrendo loro accesso a servizi di assistenza, supporto adeguato, opportunità di lavoro e una casa per una vita dignitosa. Un uomo che molti non vogliono dimenticare. Nel tempo del dolore non servono parole, a volte bastano gesti che sono carezze che curano, abbracci che stringono, sguardi che dicono tutto. Così hanno scritto i suoi amici sui social, ringraziando Zero Calcare per la vignetta dedicata a Giacomo. Il tema dell'ordine pubblico ci riporta a Treviso. Giovedì scorso, lo ricorderete, questa donna aveva seminato il panico in piazza dei signori aggredendo due studentesse che passeggiavano e prendendo a schiaffi una delle ragazze. Ecco, ieri la stessa donna, una 33enne di paese, è stata arrestata dagli agenti della polizia locale dopo il furto di uno smartphone in un negozio del centro. Stamane il processo per direttissima rinviato al 1 ottobre. La donna è stata sottoposta alla misura cautelare dell'obbligo di dimora. E poi c'è il caso che vi abbiamo raccontato nel telegiornale di ieri. A San Cipriano i giovani che ballano in mezzo alla strada perché la bravata di ieri sarebbe stata ripresa da alcune telecamere di videosorveglianza e si scopre che un fatto simile sarebbe accaduto giusto una settimana fa, sempre di domenica, in quella di San Fior. Sarebbero stati identificati i giovani protagonisti della bravata di domenica mattina lungo la strada principale di San Cipriano di Roncade. A registrare i tre, due ragazze e un ragazzo che alle 5.30 del mattino con la musica a tutto volume dell'autoradio si sono lanciati in mezzo alla strada ballando mentre passavano le auto, alcune telecamere della zona visionate dalla polizia locale su indicazione del sindaco Marco Donadel. E tutto per filmare con il cellulare le scene e postarle sui social a rischio della vita. Un fatto analogo sarebbe accaduto la settimana scorsa anche a San Fior per delle pratiche che secondo gli psicologi mettono in luce le fragilità delle giovani generazioni. Una situazione seguita con preoccupazione anche dalla diocesi di Treviso che per questo ha organizzato per domani sera al liceo scientifico da Vinci un incontro sui giovani dedicato agli adulti. A questo incontro con l'aiuto del dottore medico psicoterapeuta Alberto Pellai specializzato in età evolutiva abbiamo voluto invitare tutta la cittadinanza dagli operatori di pastorale giovanile delle nostre comunità ai genitori dei nostri ragazzi ma perché no anche alle commesse dei nostri supermercati anche gli operatori di scuola guida gli allenatori delle società sportive le insegnanti dei nostri licei e dei nostri istituti tecnici ecco solo insieme come comunità sapremo tendere loro una mano adulta e responsabile. Ma il progetto della diocesi non si ferma qui. Costituire dei tavoli di lavoro di riflessione ai quali possano sedersi un po' tutte quelle persone che hanno a cuore la loro crescita. Ecco un'esperienza segno allora che traguarda al futuro. Ci fermiamo adesso per qualche istante a tra poco. Ritorniamo in diretta da studio con l'edizione di Treviso dei telegiornali di Antenna 3. Allora nella marca sta ricominciando a piovere. Attenzione perché due perturbazioni sono in arrivo in settimana. La prima lo sappiamo in queste ore. E la protezione civile regionale ha diramato proprio a questo riguardo un bollettino di allerta gialla e verde. Tra il pomeriggio sera di oggi e le prime ore di domani sono previste precipitazioni a tratte diffuse più significative nella nottata, probabili rovesci e temporali specie tra prealpi e pianura dove saranno possibili fenomeni localmente intensi e quantitativi anche consistenti di pioggia. Quindi attenzione. E proprio sul fronte della prevenzione alluvioni si è fatto il punto in regione oggi a Palazzo Balbi. Il Veneto ha realizzato circa la metà dei bacini di laminazione previsti ma la vera sfida è il restauro di 5.000 chilometri di argini. Per la messa in sicurezza del Veneto dal rischio idrogeologico dal 2010 ad oggi la regione ha portato a termine più di 2 miliardi e 100 milioni di euro di interventi aprendo oltre 3.000 cantieri. Al momento dei 23 bacini di laminazione previsti ne sono stati realizzati 10. Il piano che abbiamo messo in campo è un piano molto corposo che vale quasi 4 miliardi di euro di opere ne abbiamo realizzate oltre 2 miliardi vuol dire che abbiamo passato la metà ma c'è ancora molto da fare e si continua in questa direzione a recuperare i fondi, lottare con la burocrazia che è spesso molto complicata, una strada in salita però gli obiettivi li abbiamo chiari e continuiamo in questa direzione. Sul fronte burocratico le difficoltà sono ad esempio quelle incontrate dalla legge regionale del 2016 che consentiva di andare in daeroga per motivi di sicurezza al taglio degli alberi dentro i corsi d'acqua è stata bocciata dalla Corte Costituzionale perché di materia statale. La priorità oggi è comunque mettere in sicurezza i 5.000 chilometri di argini di competenza della regione e gli altri 3.000 dei geni civili messi a rischio dagli animali selvatici come tassi e nutri e che in alcuni casi li hanno resi una gruviera. Bisogna prendere coscienza che oggi questa è diventata la vera sfida non più il sormonto arginale dell'acqua per quello lo sistemiamo col bacino della mia azione ma lo sfondamento arginale. Nel 2010 abbiamo avuto ben 32 argini sfondati e penso che sia fondamentale avviare un progetto di eradicazione totale. C'è poi un'altra emergenza, quella dei tombini che non riescono in caso di nubi fragi a smaltire sufficiente acqua da evitare allagamenti. Spesso presentano dimensioni, pensate quando eventi così violenti erano piuttosto rari. Oggi risultano sottodimensionati, quindi anche, non è una competenza della regione ma chi ha la competenza penso debba adottarsi di un piano per arrivare a rifare le reti meteoriche dimensionandole per gli eventi che stanno capitando sempre più frequentemente. Che sono i comuni? Sono le amministrazioni locali, io non voglio aditare nessuno però i comuni sono senza soldi, anche loro purtroppo i virtuosi sono quelli che pagano di più le conseguenze dei tagli che accadono. La sanità adesso dopo l'operazione chirurgica durata più di 20 ore per trattare un complesso tumore all'intestino nuovo intervento fuori dal comune allo Iov di Castelfranco dove è stata rimossa una neoplasia duodenale che provocava l'occlusione completa e impediva al paziente di alimentarsi. L'operazione si è svolta con un innovativo sistema endoscopico che ha consentito di creare un collegamento tra stomaco e piccolo intestino e il paziente ora ha ripreso l'alimentazione senza problemi. Il metodo di intervento adottato è di recente introduzione e viene praticato da pochi centri in Italia tra cui lo abbiamo sentito lo Iov di Castelfranco. Con la giudicazione del bando di gara per la progettazione e la realizzazione del secondo stralcio del terraglio Est prende sempre più forma la messa a terra di una nuova infrastruttura che sgraverà il traffico lungo una delle arterie principali per il tessuto produttivo del territorio. Entro l'estate del 2025 è prevista l'apertura dei cantieri con la previsione di ultimare l'intervento nella seconda metà del 2026. Così l'assessore all'infrastrutture e vicepresidente della regione Elisa De Berti annunciando l'aggiudicazione dell'appalto per la progettazione e realizzazione del secondo stralcio appunto del terraglio Est alla RTI Brussi Costruzioni con Beozzo Costruzioni e Costruzioni Generali Xodo. L'opera del valore di 38 milioni è finanziata con fondi per lo sviluppo e la coesione e risorse regionali. Ora in una scuola trevigiana le elementari ciardi un murale spera abbellire l'entrata del plesso ma anche come lezione sulla cura e l'attenzione per gli altri. Vi piace questo murale? Sì! Tutti soddisfatti alle elementari ciardi del villaggio Gescal di Treviso. Scolari, insegnanti, autori e amministrazione comunale per questi murales che colorano l'entrata della scuola. Il tema l'hanno scelto i bambini con la supervisione del Treviso Comic Book Festival. Lo spunto era prendersi cura uno degli altri, abbiamo detto cosa vuol dire per loro e loro hanno tirato fuori queste idee, aiutare l'amico in difficoltà oppure rispettare l'ambiente, acudire gli animali, le piante. Avevano molte idee o anche molti ricordi legati alla loro vita di scuola che volevano che venissero rappresentati e cercare di ridurre tutto ad un'immagine è stata la cosa più tosta e allo stesso tempo la parte più divertente. Così sono nate le mani bianche e nere che cercano un pallone, l'altalena tra il sole e la pioggia, ma anche una singolare stilizzazione di un'ape e le maniche si stringono. Un taglio del nastro è arrivato pochi giorni dopo l'inaugurazione del murales all'ex patinodromo. Si sta diffondendo questo desiderio anche in altre scuole e cercheremo di accontentare tutte le richieste collaborando col Treviso Comic Book Festival o anche con altre associazioni in realtà del territorio per cercare di migliorare tutte le scuole perché non ci siano differenze. Perché questi murales sono stati una lezione per tutti. Innanzitutto la tematica scelta, che è quella del prendersi cura di, è importante per i nostri ragazzi perché tutti i giorni c'è un bambino nuovo da accogliere, qualcuno può essere in difficoltà, situazioni familiari che cambiano alla velocità della luce e quindi la valenza educativa è proprio stare, prendersi cura di qualcuno, di qualcosa per stare bene tutti insieme. In sala parto, utilizzando la lingua dei segni, è accaduto all'ospedale di Conegliano in occasione di un recente parto con protagonista una giovane copia di sordomuti. L'equip del reparto diretto dal dottor Alberto Candiotto per fornire l'adeguata assistenza ha attivato il servizio di video interpretariato in lingua dei segni in modo da rendere accessibili tutte le informazioni e comprendere tutti i dubbi o le richieste che in quel momento la coppia esprimeva. Durante il travaglio e il parto, una volta nato il bambino, le infermiere e l'ostetrica avevano sempre con loro un dispositivo mobile attraverso il quale utilizzare l'applicazione per il collegamento con l'interprete. La notizia viene resa nota oggi che è proprio la giornata internazionale delle lingue dei segni. E adesso andiamo alle notizie che arrivano dalla Bellunese. In apertura anche in questo caso la cronaca con una buona notizia perché è stata ritrovata e sta bene l'escursionista pordenonese di 71 anni dispersa da ieri nella zona di Passo Cibiana. La svolta stamattina attorno a mezzogiorno l'esortazione del soccorso alpino nelle escursioni mai lasciare indietro il più debole. È stata incrociata lungo una strada forestale verso Cibiana di Cadore attorno a mezzogiorno da una pattuglia della Guardia di Finanza, la 71enne di Pordenone le cui ricerche erano in corso da ieri pomeriggio. L'anziana è stata portata all'ospedale di Pieve di Cadore dove le è stata riscontrata una micro frattura a un piede mentre le condizioni generali della sua salute sono buone. Si tira un sospiro di sollievo dopo l'angoscia durata quasi 20 ore. I soccorritori hanno riconosciuto l'escursionista che era in cammino verso Cibiana e dopo averla recuperata l'hanno riaccompagnata al campo base al campo sportivo di Vodo di Cadore. La 71enne faceva parte della comitiva del CREO Circolo Ricreativo Enti Ospedalieri di Pordenone con il quale ha un rapporto da 15 anni. 18 persone in tutto erano partite ieri mattina alle 7.45 al parcheggio di Via Rotto a Pordenone destinazione il Col Dur Dolomiti di Zoldo. La zona è molto particolare, è una zona molto impervia con dei sentieri ben definiti ma appena si esce al sentiero naturalmente la traccia diventa difficilissima da trovare. E così sembra sia accaduto. Davanti alla 71enne camminava una componente della comitiva. Raggiunto il bivio per la discesa verso il passo Cibiana forse attardandosi, l'anziana è imboccato e sentiero sbagliato. Chi la precedeva non l'ha più vista e raggiunto il gruppo ha fatto scattare le ricerche che hanno coinvolto le squadre del soccorso alpino volontarie della Guardia di Finanza su M. Vigili del Fuoco con il dispiegamento di tre elicotteri. L'ultimo contatto telefonico con la donna ieri sera alle 20.20 quando aveva riferito ad essere prossima a una mulattiera all'interno del rudere di una baita. Impossibile farsi inviare la posizione precisa individuata a grandi linee sul versante del rifugio Talamini dove si sono concentrate le ricerche per tutta la notte e parte della mattinata fino alla lieta notizia. Fondamentale, ribadisce il soccorso alpino bellunese che le persone più esperte aprano e chiudano la fila per dare supporto necessario a tutto il gruppo. Chiediamo di fare attenzione quando andiamo in gruppo ci deve essere un capofila e un chiudifila e soprattutto all'interno bisogna che ci aspettiamo l'un l'altro è una cosa importantissima. Anche se magari ci allontaniamo per fare i nostri bisogni che può capitare in montagna aspettiamo la persona che rientri e laddove non la vediamo arrivare dobbiamo cercarla. E quella che si è appena conclusa è stata un'estate impegnativa per il servizio di urgenza ed emergenza dell'Ulss Dolomiti e più in generale per la grande famiglia del soccorso in montagna. Cura e prevenzione è il binario su cui si è sviluppata l'attività che si è conclusa ieri con il termine dell'operatività del secondo elicottero istituzionale. Una grande squadra a servizio di un bellissimo territorio squadra che ha potuto dare quelle risposte che effettivamente sono state necessarie e utili per la salute delle persone. Va in archivio l'estate 2024 e non solo sotto il profilo astronomico al San Martino di Belluno il bilancio di tre mesi di attività svolta al massimo dell'impegno per il personale sanitario la pattuglia dei volontari delle ambulanze e dei professionisti del soccorso in montagna e di due elicotteri Falco 1 e Falco 2. Quasi 5.400 missioni, una media di 58 al giorno di cui 419 con elicottero, oltre 5.200 persone soccorse e più di 30.000 accessi al pronto soccorso superiori sia al 2022 che al 2023. Cadore e a Gordino le zone dove più numerosi sono stati gli interventi l'8% dei quali in elicottero a favore di illesi. A questi si è rappresentato il conto che oramai dall'inizio dell'anno sfiora quasi il milione di euro. Durante l'estate ha riscontrato apprezzamento l'attivazione della medicina turistica e della dialisi in vacanza cura e prevenzione, due binari fondamentali per i professionisti in campo. Lavoro intenso quest'estate per l'area appunto della prevenzione della sanità pubblica, tre linee di lavoro principali, rifugi sani e sicuri, poi il progetto ipertensione, abbiamo aderito una progettualità del club alpino italiano. La terza linea, che è di grande interesse non solo locale ma anche regionale e nazionale, riguarda la prevenzione del melanoma e di altri tumori cutanei legati all'esposizione solare. Già avviato l'iter per la stagione invernale dal Ponte dell'Immacolata al 22 gennaio, test importante per il futuro impegno olimpico. È un inverno importante perché è quello che precede la stagione olimpica, quindi è un inverno che ci permetterà di testare tutto il sistema dell'urgenza e dell'emergenza e dell'attività sanitaria in vista delle Olimpiadi in genere. Stop ai voli turistici in montagna. È durissima la presa di posizione del direttivo centrale del CAI che stigmatizza l'iniziativa della sezione di Domeggie di avvalersi dell'uso dell'elicottero per la salita e la discesa dal bivacco Montanel perché ha difficoltà a farlo a piedi. Da diversi decenni, scrive il Presidente Generale Antonio, in tutte le sedi decisionali il CAI ha condiviso la contrarietà all'uso turistico degli elicotteri. Oggi con la drammatica crisi climatica in atto è il momento della coerenza del rigore, semplicemente inaccettabili per il CAI iniziative come quelle della sezione di Domeggie e ai soci e a chi riveste ruoli decisionali chiede di attenersi ai principi di autorresponsabilità sanciti dal biodecalogo e nei documenti più recentemente approvati dal Consiglio Centrale. Cambiamo tema adesso, una grande opportunità per gli adolescenti, le famiglie e la comunità bellunese tutta. Parte Creativity House, progetto finanziato dal Dipartimento nazionale per le politiche della famiglia per dare casa alle idee e ai linguaggi dei giovani tra gli 11 e i 17 anni. Un modo per riappropriarsi del piacere del fare, per abitare uno spazio, la Casa delle Arti, rigenerata da Tib Teatro all'ex Caserma Piave e mettere in circolo idee. Parte Creativity House, progetto di Tib, capofila, insieme all'Associazione delle Scuole in Rete, il CSSA, e una nutrita pattuglia di partner, nato nel 2021 in risposta all'avviso pubblico educare insieme del Dipartimento nazionale delle politiche per la famiglia. Un progetto che propone corsi gratuiti in quanto pagati a monte dal bando, quindi gratuiti per gli utenti. Destinatari sono i giovani fra gli 11 e i 17 anni che avranno la possibilità di frequentare corsi di teatro, musica, fotografia, creazione di installazioni artistiche e partecipare a eventi, incontri tematici, mostre e rappresentazione di docufilma. Insieme proprio ai giovani 11-17, ma ci tengo molto a dirlo. È un progetto che chiama in causa tutti noi, come famiglie, come comunità educanti e soprattutto si rivolge a chi ha le famiglie più fragili e anche in condizioni di difficoltà economica. Un'opportunità è un patto per i giovani, chiamati a lasciare per un paio d'ore i propri zaini, anche in senso figurato e soprattutto i cellulari. Creativity House, che ha anche un bellissimo logo che è stato fatto appositamente, si chiama, ha un sottotitolo, dove abita l'immaginazione. L'immaginazione è una delle risorse più grandi che abbiamo. È tutto allora per questa edizione, a me non rimane che ringraziarvi, lasciarvi alle previsioni del tempo e augurarvi una buona serata. Arrivederci.